Su Instagram ricevo spesso dei messaggi da ragazzi e ragazze che mi chiedono come entrare nel mercato immobiliare. Lo vediamo in questo video. Questo video è sponsorizzato da me, dalla mia azienda, Valenti Italian Properties, che è un brand dedicato agli immobili di prestigio, perché stiamo cercando nuove persone, nuovi ragazzi o ragazze che vogliono lavorare nel mercato immobiliare. Quindi se pensi di essere la persona giusta, puoi inviare la tua candidatura a infochiocciolavalenteit.com La prima strategia che puoi utilizzare per entrare nel mercato immobiliare è come investitore immobiliare. Ora, bisogna subito fare una distinzione, perché anche qua su YouTube troviamo mille guru, mille video che parlano di investimenti immobiliari. La prima attività che puoi fare è quella classica di comprare un immobile e metterlo a reddito. Per essere un vero investitore, in teoria dovresti anche affidarla a qualcuno che gestisce quella proprietà, in modo che tu non debba impiegare il tuo tempo, ma soltanto il tuo capitale. La seconda attività che puoi fare come investitore immobiliare è quella di fare del trading immobiliare. L'ho messo tra virgolette perché, secondo me, non è una vera e propria attività di investimento, ma è una professione. Il trading immobiliare consiste nel comprare un immobile, ristrutturarlo, riqualificarlo, e rivenderlo ad un prezzo maggiorato, generando un utile. Per questo tipo di attività c'è bisogno di una grande spesa di tempo e di conoscenze, e quindi, secondo me, non rientra fra gli investimenti, ma rientra tra le professioni, tra le attività lavorative vere e proprie. Queste due strategie ti possono dare anche ritorni molto elevati se sai come portarle avanti. Ovviamente, non ti improvvisare investitore se non hai mai fatto un'operazione, se non hai nessuna conoscenza tecnica, ti consiglio di affidarti a qualcuno. Ma sono attività veramente redditizie. Il contro è che hai bisogno di un grande capitale per poter iniziare. Secondo me si parla di almeno 4-500 mila euro. E adesso ti spiego il perché. Se vai ad investire tutto il tuo capitale su un'unica operazione immobiliare, sei esposto a dei rischi enormi. Perché se quell'operazione dovesse andare storta, non solo avresti a rischio i tuoi soldi, ma anche il tuo guadagno. Se invece questi 4-500 mila euro li dividi fra 2-3-4 operazioni, spalmi il rischio. Più operazioni fai e più il tuo rischio diminuisce, il tuo rischio medio, ovviamente. Se anche un'operazione dovesse andare storta, o quell'anno non incasserai niente da quell'operazione, hai le altre 2-3-4 operazioni che producono del reddito e che funzionano, e quindi riesci a guadagnare. Se però non hai capitali o non hai conoscenze del mercato immobiliare, il mio consiglio è di optare per l'attività di agente consulente immobiliare. In questo caso non ti serve un grande capitale di partenza, ti servono delle conoscenze che però puoi sviluppare lavorando con un'agenzia o con una società immobiliare, e nel tempo, magari nell'arco di uno o due anni, arrivare ad essere autonomo e fare carriera magari nell'azienda dove stai lavorando o iniziare a lavorare in autonomia. Oltre alle competenze più commerciali, alle competenze nella trattativa e nell'intelligenza emotiva, servono anche le conoscenze tecniche del settore, quindi tasso, urbanistica, contrattualistica, aspetti legali legati alla compravendita, e una conoscenza approfondita di tutti gli step necessari per arrivare fino al rogito notarile. Anche in questo caso ti sconsiglio di partire allo sbaraglio se non hai mai fatto questo tipo di lavoro, ma inizia a lavorare con qualcuno che sa farlo. Per concludere abbiamo visto le due strategie per entrare nel mercato immobiliare, come investitore, avendo a disposizione un capitale consistente da investire, oppure come lavoratore, come professionista del settore, come agente o consulente immobiliare. Ti ricordo che puoi mandare la tua candidatura a info-valente.it.com e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.